Secondo i dati nazionali del 2016 si è registrata una crescita del PIL, una notizia che dovrebbe dare il tanto atteso segnale di ripresa economica con le dovute ricadute su occupazione e lavoro. Ad intervenire subito la CGL che contrappone invece i dati sul calo dei contratti a tempo indeterminato, la riduzione della stabilizzazione e denuncia anche l'effetto dei voucher sull'intero ambito. L'Abruzzo perde nel primo trimestre del 2016 rispetto al primo trimestre del 2015 13.000 occupati. Di questi 13.000 occupati 9.000 sono donne e 4.000 uomini. Diminuiscono fortemente nel primo trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo cosa dimostra? Dimostra che esauriti gli incentivi corposi dati alle imprese nel 2015, esauriti o dimezzati quegli incentivi diminuiscono drasticamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. A fronte di questa situazione aumentano invece molto sensibilmente del 44,4% nel primo trimestre del 2016 rispetto al 2015 i voucher. Questo dimostra che il lavoro precario è ancora molto diffuso, di cui il voucher è l'esemplificazione. Se a causare tanta instabilità, oltre a quella dei mercati, sono state le politiche introdotte sulla contrattualizzazione dei lavoratori, la CGL ha portato avanti una raccolta firme che ha raggiunto i cittadini su tutto il territorio, ottenendo una grande partecipazione. C'è stata una grande partecipazione dei cittadini e dei lavoratori e ciò indica che le persone vogliono maggiori diritti nel lavoro. La CGL d'altronde ha anche proposto, con una proposta di iniziativa popolare che verrà presentata a settembre, la riscrittura di un nuovo statuto dei lavoratori che dà più diritti alle partite IVA e precarie ai giovani.